Fà giù, rischiano tantissimo con questo fallo, l'arbitro ha indicato chiaramente il dischetto, prepariamoci ad assistere a un tiro dagli 11 metri. Il punteggio potrebbe finalmente sbloccarsi. Sensazionale Pickford, brutto errore qui, imperdonabile, ma diamo il giusto merito alla risposta del portiere. Errore qui, pallone sprecato, Sané, Sané, grande risposta di Provedel, che parata, certo non un intervento di Rudin. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Ripartono all'attacco, direttamente dalla propria area. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Spinazzola. Ecco Lewandowski. Va alla ricerca di un compagno davanti. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Pallone interessante, in verticale. Cross di Bernardeschi. Respadori! Si sblocca il risultato. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto. Beh, questo è un passaggio quanto meno discutibile. Si libera con un dribbling. Raspadori. Si avvicina la porta. Raspadori! Portiere battuto! Rete! Ora doppio vantaggio per loro. Un tiro incantevole che va a battezzare l'angolo e non lascia scampo al portiere. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Prova da partire in velocità. Tocco preciso. Prova a darla profonda, nello spazio. Grande giocata difensiva. Il portiere la calcia lontano. Cercano un'azione veloce. Palla filtrante per Lewandowski. Giocata nello spazio, in profondità. Va di testa! E c'è il gol! Grande colpo di testa, rapido, preciso. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Sensi. Sceglie di andare per vie verticali. Ha spazio sulla fascia. Cross di raspato. Deviazione di testa! Beffa l'estrema difensore! Ottimo colpo di testa. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone è deciso. Vede lo scatto e cerca la profondità. Può concludere! E poteva essere un'occasione di testa della partita di oggi. Una partita incredibile. Una prestazione da incorniciare nel momento clou della competizione. Raggiungere un traguardo del genere in questa maniera vuol dire avere qualità, coraggio, anche un pizzico di giusta incoscienza, Fabio. Siamo ai titoli di coda. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Un ringraziamento e un saluto anche da parte mia. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Omega. Si fa avanti in territorio nemico. La toglie dalla porta. Raspadoni! La mette in rete! E questo gol da loro ancora maggio. ...on the field. Number five. Stefano Sensi. Raspadoni. Number 11. Ha provato il tiro forte, ma non ha trovato lo specchio della porta. Substitution. Cafu. Supera il diretto avversario. Può tentare la conclusione. Ha segnato. Goll inevitabile dopo uno scilalone difensivo di quelle proporzioni. Spinazzola ha fatto bene a crederci. Non tutti si sarebbero aspettati un errore in una zona così arretrata. Cercano un'azione veloce. Sceglie di andare per vie verticali. Cerca il tiro. Crossa in mezzo. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Il direttore di gara fischia tre volte. È finita! Una vittoria convincente. Una prestazione fantastica da parte di tutta la squadra. Oggi è andato tutto per il verso giusto. Raspadori ha disputato una partita fantastica e viene premiato come migliore in campo. Invece, la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Hanno costretto subito l'avversario ad inseguire. E questo sappiamo quanto conta dal punto di vista fisico e mentale. Sono stati bravi a sfruttare il vantaggio e conservarlo fino in fondo. Please, kindly, remove any cause...